A Via Reggio salute e benessere protagoniste per quattro giorni con dibattiti, incontri, eventi sportivi e spettacoli. L'appuntamento è dal 24 al 27 settembre con una vera e propria cittadella che verrà realizzata nella passeggiata della cittadina versiliese e negli spazi vicini al centro congressi del Principe di Piemonte. Per l'occasione non mancheranno gli screening gratuiti dall'oculistica fino a testo sulla memoria, visite senologiche o misurazioni della glicemia. Ci saranno poi tante novità, assicurano gli organizzatori, con un'intera area dedicata alle nuove abitudini alimentari. Direi che parte come l'edizione dei record, quindi un numero impensabile di conferenze, di talk, di incontri, perché siamo oltre il centinaio. 70 circa sono le manifestazioni di carattere sportivo, insomma complessivamente in quattro giorni sono 250 appuntamenti. Le novità sono di varia natura, sono la presenza di nuove associazioni, sono la presenza di nuovi screening gratuiti per il pubblico, sono la presenza ad esempio dell'area vegana, quindi anche l'attenzione a nuove sensibilità che vengono avanti, diciamo nuove culture. La presenza ad esempio di un'area dedicata alla bellezza, al benessere, al tema degli estetisti, quindi insomma tante nuove occasioni di incontro che noi offriamo ai visitatori del festival. Il festival sarà poi l'occasione per alimentare il dibattito politico su alcune questioni di carattere nazionale e sulle sfide future del sistema sanitario. A Via Reggio arriverà infatti il ministro Beatrice Lorenzin in un talk show al quale parteciperà anche l'onorevole Federico Gelli, l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Sarà l'occasione, ha spiegato Saccardi, di presentare l'eccellenza della sanità toscana, riconosciuta a livello nazionale in più occasioni. Questa è un'occasione per far vedere anche quei percorsi virtuosi che ci sono e che funzionano, quelle realtà belle come la collaborazione con il volontariato che in questa regione esistono e che sono anche un esempio per tutta Italia. In omaggio Expo 2015 a Via Reggio sono state organizzate anche iniziative sul cibo. Cibo come driver per l'economia sostenibile e come strumento di prevenzione grazie a un'alimentazione più sana ed equilibrata, ricco infine il parterre di ospiti, oltre a istituzioni illuminari del mondo della salute. Non mancheranno infatti VIP del mondo dello sport, TV e spettacolo da Cesare Prandelli fino a Giobbe Covatta, Palaturgi, Fabio Caressa e Yuri Chechi.